Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi È la padrona di casa dell'Isola dei Famosi, ma quanto guadagna Ilari Blasi nelle vesti di conduttrice del reality show? Numeri da capogiro A due settimane dall'esordio della nuova stagione dell'Isola dei Famosi, abbiamo già assistito a scene che ci hanno lasciato a bocca aperta In studio una splendida Ilari Blasi che con la sua disarmante bellezza e con i suoi look griffati incanta il pubblico ed i telespettatori da casa Quanto guadagna Ilari Blasi alla per condurre l'Isola dei Famosi? Credits, Instagram Conduttrice televisiva amatissima, Ilari Blasi è stata sin dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo una vera e propria icona di bellezza e lo può confermare il suo compagno di vita, Francesco Totti, che non appena ha visto il suo splendido sorriso non ha desiderato altro che avere la donna al suo fianco Ha una splendida famiglia La sua carriera è stata sin dagli inizi davvero scintillante Al timone della conduzione delle Ieni, del grande fratello Vip, Star in the Stars La bellissima conduttrice ha dimostrato di avere una notevole presenza scenica davanti la telecamera Bellezza sì ma Ilari Blasi ha anche un certo caratterino, sarà per questo che è amatissima dal pubblico? La showgirl e conduttrice televisiva non le manda certamente a dire. Ma se di Ilari Blasi sappiamo tutto o quasi, c'è una domanda che molti si fanno Quanto guadagna Ilari Blasi alla conduzione dell'Isola dei Famosi? Isola dei Famosi, quanto guadagna Ilari Blasi? Precedentemente abbiamo scoperto quanto guadagnano i naufraghi con la loro partecipazione all'Isola dei Famosi ebbene i numeri sono davvero sbalorditili Tutto però si chiedono quanto guadagna invece Ilari Blasi? Beh c'è da dire che se qualche indiscrezione era trapelata in merito al guadagno dei concorrenti che hanno preso parte a questa avventura, lo stesso non si può dire per la conduttrice romana Ad oggi non è reso noto quale sia il guadagno percepito dalla conduttrice alla conduzione dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi Quello che sappiamo però è che il cachet per la conduzione della scorsa edizione era davvero da capogiro Pari a circa 50.000 euro per ogni puntata, lo sapevate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie